Benvenuti al nostro TG Sporting. Cari amici di Telemolisi, in apertura vogliamo fare davvero gli auguri più affettosi di buon compleanno a Marcello Damiano che è il titolare della struttura del Coriolis. Marcello sempre disponibile, sempre gentile nei nostri confronti, collaboriamo evidentemente anche per la nostra trasmissione Telemolise nel cuore. Quindi a Marcello, al quale auguriamo una vita assolutamente lunga e serena, alla moglie Silvana, ai figli Amalia, Cristina e Luigi, e naturalmente a tutti i nipoti, a tutti i parenti, va davvero il nostro augurio di buon compleanno e soprattutto di una festività, di una festa, da trascorrere nella serenità più totale, naturalmente da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Automobilismo con un ottimo tempo, Salvatore Venanzio si è aggiudicato la 31esima edizione dello slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. Sulla sua radicale SR4 è stato Salvatore Venanzio a salire sul gradino più alto del podio nel 31esimo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, la decima tappa del campionato italiano slalom e l'ultima a coefficiente 1. Il driver campano ha conquistato la vittoria con il miglior tempo fatto registrare nella terza ed ultima salita di gara, esattamente 2.33.50. Il pilota campano ha preceduto Emanuele Schillace in testa nella prima salita e Domenico Pallumbo in classifica. Grazie a questo successo, Veneziano ha consolidato così la prima posizione nella classifica assoluta del tricolore. La manifestazione organizzata dalla Cimolise ha fatto registrare numeri eccellenti anche quest'anno, con i piloti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati lungo i tornanti della Gildonese Teatro della Competizione. Da sottolineare il quarto posto del driver campobassano, Fabio Emanuele, che a causa di una rottura all'ingranaggio del cambio, ha dovuto rinunciare alla terza salita. Nella seconda manche la competizione ha perso anche uno dei suoi protagonisti. Si tratta di Gianluca Miccio, che per problemi alla sua radical ha dovuto interrompere la gara. Nella classifica assoluta, Venanzio Schillace e Palumbo hanno occupato, nello stesso ordine, i gradini del podio, con al quarto posto sempre il campione di casa Emanuele, che ha guidato, come sempre, regalando spettacolo e tanti appassionati posizionati lungo il percorso. Domenica prossima ci sarà una nuova sfida tricolore a Torregrotta. I punti in palio saranno pesantissimi. Sempre per l'automobilismo, dall'esaltazione al rammarico, Giuseppe Testa su Skoda Fabia RS Rally 2, con alle note Gino Abatecola, dopo aver chiuso in terza posizione nel 42esimo rally di Bassano, è stato squalificato per un problema di peso della vettura, di poco inferiore al consentito per il driver cercese, arrivato ad un passo dal titolo rally, è terminato così il campionato. Adesso il calcio di Serie C. Quinta giornata nel girone B, Gubbio Campoposto 0-0, Pesaro Ternana 0-2, Legnago Sestri Levante 0-3, Pontedera Arezzo 0-1, Torre Spineto 1-1, Ascoli Lucchese 1-2, Pianese Virtus Entella è terminata 1-1, in posticipo Pescara Perugia, Rimini, Milan Futuro, Spal Carpi. Classifica che viene aperta dalla Virtus Entella con 11 punti, 10 Pescara e Ternana, a 9 punti la Torre Silgubbio, Pesaro e Arezzo, 8 punti per Lucchese, 7 punti per Lascoli, 6 punti per Carpi, Pontedera e Pineto, a 5 punti il Perugia con la Pianese, 4 punti per Campobasso e Sestri Levante, a 2 punti il Rimini e il Milan Futuro, un punto per la Spal, ancora 0 punti il Legnago. A Gubbio il Campobasso non è andato oltre lo 0-0, ma è tornato ad ottenere un risultato positivo dopo due sconfitte di fila al termine del match, il parere del tecnico Rosso-Blu. Gli chiedo subito un parere su questo 0-0, se le lascia la mano in bocca per come si è evoluta la partita, perché per larghi tratti l'avete comandata. A noi dobbiamo essere contenti della prestazione, io lo dico sempre, con le prestazioni prima o poi arriveranno anche dei punti che secondo me ci meritiamo, abbiamo fatto una partita, abbiamo avuto le migliori occasioni, dispiace però, bisogna prendere quello che ci dice il campo. Sicuramente il gol arriverà, tra il gol e il capobasso stasera, che cosa secondo lei è l'imprecisione, la mancanza di cattiveria, una serie di componenti? Lì non si tratta di cattiveria, lì si tratta di scavare un po' la palla o di piazzarla, al momento si fanno un po' prendere dalla frenesia forse, però non gli puoi dire niente, perché secondo me hanno fatto una bella partita con Meccola Torres. Secondo me siamo in debito di due o tre punti in questo campionato, la squadra sta crescendo, sta crescendo fisicamente, mentalmente, bisogna essere anche contenti di quello che stiamo vedendo e stiamo facendo. La sostituzione di Bigonzoni a un certo punto del primo tempo per l'ingresso di Averi, cosa è successo? È successo che non camminava, me lo cambiava. nulla di fisico per Bigonzoni? No, no, no. Non mi piaceva come stava interpretando la partita e l'ho cambiato. Ottima la prova del campo basso, probabilmente il rammarico maggiore, se c'è, non aver sferrato il colpo di grazia nel secondo tempo, quando il Gubbio obiettivamente non riusciva a recuperare più il pallone, mi è sembrato. Noi stiamo allenandoci forte in certe situazioni, e noi lo iniziamo a vedere. Il problema nostro è che prima o poi deve girare, dai. Il problema... Io mi interessa solo che i ragazzi facciano bene, giochino bene, che le persone che ci vengano a vedere siano contente e mi auguro che giovedì ci sia tanta gente a darci la mano perché per noi può essere una partita importante perché se riusciamo a fare la nostra ci possiamo respirare un attimino e mettere un po' di più le cose a posto di quelle che sono al momento. Va bene, ha salutato tanti amici a Gubbio qui? Sì, ma io ce l'ho gli amici, ma non è che mi hanno andato a quel paese, però si vede che non gli è andato giù il fatto che sono venuto via. Tutto qui. Però l'importante è che gli amici superino quelli che ha detto lei. No, vabbè, ma fa parte del caccio, io non è che mi meraviglio per queste cose qui. Stiamo scherzando, non ha battuto. Sì, no, no, ma onestamente non me ne frega niente. Quelli che volevo salutare li ho salutati tutti con affetto e ci tenevo a salutare. Nell'analisi post-match il tecnico Taurino del Gubbio ha posto l'accento sugli errori commessi dalla sua squadra. Taurino dal 4-4 Francavilla-Campobasso allo 0-0 Gubbio-Campobasso ne è passata di strada, nel senso si è passato da uno estremo all'altro. È passato del tempo, io sono in una squadra completamente diversa, quindi il calcio ogni partita ha una storia a sé, naturalmente, una storia diversa. Non ricorda quel 4-4? Certo, certo, anche perché eravamo eravamo in vantaggio di due gol e siamo fatti recuperare negli ultimi minuti, quindi me lo ricordo bene. Sì, il gol di Liguori proprio nel finale, il 4-4. Allora, un commento su questa partita, direi un risultato giusto, probabilmente il Campobasso recrimina di più, ma forse avrebbe anche meritato di vincere, alle occasioni alla mano. La sua squadra è un po' in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, come mai? Sì, la verità è che oggi abbiamo fatto fatica. Sicuramente il Campobasso ha fatto meglio di noi, e non so se sicuramente sono stati bravi loro. Secondo me noi siamo stati un po' sotto i nostri standard e siamo mancati sia in qualità sia in impatto e abbiamo perso troppi duelli per poter vincere questa partita, quindi alla fine è un punto guadagnato perché nella prestazione sicuramente il Campobasso qualcosina in più di non l'ha fatta. Ecco, ma secondo lei una battuta d'arresto del Gubbio a livello prestazionale o il Campobasso ha giocato effettivamente meglio? Dov'è la verità secondo lei? Ho detto entrambe le cose. Il Campobasso ha fatto una buona partita e per quello che sapevamo fondamentalmente avevamo preparato la partita esattamente così come l'hanno giocata, quindi ci aspettavamo questo tipo di gara qui, ma evidentemente non sono stato bravo io con i ragazzi a far capire alcune situazioni che ci potevano dare dei vantaggi e comunque sia io penso che poi nell'arco di una stagione ci sono delle giornate storte secondo me troppi giocatori sono stati al di sotto al di là di peto della bravura del Campobasso non voglio togliere nulla però anche nei duelli individuali dove noi fino adesso avevamo fatto molto bene oggi abbiamo fatto un po' di fatica questo è un dato di fatto. Diciamo che però lei lo aveva detto in conferenza alla squadra attenzione a queste partite perché i due derby si preparano da soli a livello motivazionale questa partita dobbiamo prestare maggiore attenzione probabilmente la squadra adesso è chiamata ad una risposta rispetto anche alle sue parole. Noi dobbiamo rimanere lucidi ed equilibrati e lavorare e capire il perché io non so se abbiamo avuto un calo fisico lo vedremo poi dai dati del GPS o è stato un calo mentale io mi auguro che sia stato più un calo fisico perché un calo mentale mi darebbe più fastidio anche perché ai ragazzi dal primo giorno di preparazione della gara gli ho detto che avremmo trovato una squadra forte perché secondo me il campo basso è una squadra forte anche individualmente a giocatori ha fatto un mercato importante sono convinto che è una rosa di qualità e quindi ci dovevamo dovevamo per forza di cose calarci nella partita probabilmente non ci siamo calati più di tanto all'interno di quello che doveva essere la partita da fare. Basket di Serie A1 si è chiuso con un netto successo con 29 punti di scarto il precampionato per la Molisana Magnolia Civitanova Marche le Rosso Blu hanno battuto 70-41 il Faenza in quello che è stato un altro antipasto della nuova stagione per le Magnolie ora si entrerà nella settimana che porterà fino all'opening day in programma domenica a Genova contro la Dinamo Sassari ora il calcio di Serie D Terza giornata nel girone F Ancona a Chieti 0-1 L'Aquila a Re Canatese 2-1 Ascoli-Fermana 0-1 Avezzano-Sora 1-2 Castelfidardo-Teramo 1-1 Fossombrone e Termoli 0-0 0-0 anche tra l'Isernia e la Vigor-Senigallia 1-1 tra il Notaresco e la San Benedettese è terminata 1-0 Roma-Siti Civitanovese a 7 punti L'Aquila con il Fossombrone Senigallia e Sora 6 punti per Chieti e Ancona 5-1 Termoli con la San Benedettese 4 punti per Fermana e Ascoli Roma-Siti e Isernia San Leucio a 2 punti il Notaresco e il Teramo 1 punto per il Castelfidardo a 0 punti la Re Canatese la Vezzano e la Civitanovese Buona Buona la prova dell'Isernia ad Agnone i Bianco Celesti hanno sfiorato la vittoria contro la Vigor-Senigallia Per la seconda gara casalinga di fila l'Isernia torna al Civitelle di Agnone 21 giorni dopo il preliminare di Coppa era lo scorso primo settembre quando il Teramo di Pomante con un secco 0-2 causava la prima delusione stagionale ai Bianco Celesti per la terza d'andata in Alto Molise fa Capolino l'imbattuta Vigor-Senigallia che staziona a punteggio pieno dopo aver vinto con Castelfidardo e d'Avezzano attraverso una richiesta ufficiale inoltrata alla Lega da parte della società Isernia in campo con il lutto al braccio il momento toccante poco prima del calcio d'avvio comandato dal signor decimo della sezione di Napoli il capitano Facundo Cascio deposita un omaggio floreale ai piedi della tribuna in memoria di Martina Sassi la 17enne Isernina sconfitta nei giorni scorsi da un brutto male contro il quale lottava da diversi mesi evento che ha gettato nello sconforto l'intero capoluogo Pentro venendo alla cronaca della sfida dopo appena 40 secondi locali con Baba che attacca il secondo palo e prova a pungere sullo svolgersi di un calcio d'angolo 6 e 20 Lavigo in aria molisana con Derrico contrastato da Franzese in maniera regolare secondo l'arbitro siamo al diciottesimo aggressivo l'undici di mister Farrocco De Filippo defilato trova l'ottima opposizione di Roberto la sfera che resta alla portata in zona d'attacco dal limite francese non lontano dal bersaglio grande al ventinovesimo il rosso blu con l'avanzata di Mancini chiuso a tu per tu con Draghi dal teckel strepitoso di Mema trentunesimo e la volta di Cascio poca potenza nel suo sinistro ed è semplice l'amministrazione per Roberto siamo al trentaseiesimo sull'altro fronte il piazzato dalla corsia di destra di Gabbianelli Draghi neutralizza con i pugni e due minuti più tardi ritenta De Filippo a giro di prima intenzione Roberto respinge verso l'esterno minuto quarantuno insidioso Ghimenez da fermo dalla lunga distanza e il siluro di Baba al quarantatresimo ultimo sussulto prima dell'intervallo con gli stessi 22 con Antonio Di Perna in regia nella ripresa dopo appena 14 secondi il vivace spunto di Antenucci che si libera di un avversario scarica il destro e Roberto l'alza sulla traversa 3.40 occorre un super Draghi sul fronte capovolto sul tiro al veleno di Cone alla tredicesimo l'affondo di Perrone che si contende il pallone con De Angelis tutto buono per l'arbitro che rigetta le proteste si giunge al ventunesimo il piazzato della Vigor con il neo entrato Gonzales Perez ma siamo troppo lontani dalla porta difesa da Draghi poco dopo la mezz'ora al trentaduesimo altro squillo di Gabbianelli il giocatore rosso-blu fermato dalla traversa 39 Petto Rossi da poco in campo va al costo-costi la classe 2007 dalla destra prima del cross a Varela che la schiaccia a lato al quarantaduesimo Caparbio Cascio a credere in un interessante pallone riesce a guadagnare il fondo dopo essere entrato in aria ad aver ottenuto il dai e vai con Bainotto se la cava la retroguardia marchigiana per decimo dopo 4 di extra time può bastare finisce 0-0 tra città di Sernia e Vigor Senigallia il Termoli non ha interrotto la striscia dei risultati positivi nel difficile match contro il Fossombrone Salento a quota 5 dopo 3 giornate dopo 2 vittorie consecutive per il Fossombrone un pareggio a reti inviolate in casa contro Termoli una prestazione che comunque soddisfa lo stadio e mister fucili gli ospiti si fanno subito avanti al primo minuto ricci da fuori deviazione in corner Termoli ancora punizione palla velenosa in aria corner primo guisto del Fossombrone Casoli imbeccati in aria non concretizza prima di andare negli spogliatoi c'è tempo per un colpo di testa di Torri che tocca il palo ripresa padroni di casa più frizzanti e incisivi di testa Giunchetti para Palombo sull'altro versante anche il Termoli prova a bucare la rete con un colpo di testa in questo caso di Barone respinge con i pugni bianchini cambio per gli ospiti fuori cancello e tribelli in campo puntoriere Galdian sostituzione anche per i marchigiani esce Satalino fucili manda nella mischia Merighi Casola da fuori aria Palombo in due tempi ancora il bomber bianco-blu con una bordata che lambisce il palo cambia ancora le carte fucili Procacci in campo per l'ultimo quarto d'ora proprio lui si prova al volo sopra la traversa non ci sono altri sussulti fino al fischio dell'arbitro Paccagnella Fossombrone domenica Sora che dopo tre giornate condivide la vita della classifica con i bianco-blu L'Aquila e Sinigaglia Termoli in casa contro Roma City Futsal è terminata l'avventura in Coppa Divisione per il Cusso Molise che ha perso a Sulmo una 6-2 nella competizione riservata agli Under 23 il team d'Ateneo ha schierato la formazione Under 19 guidata da Antonio Di Stefano in rete per il Rosso Blu Polisena e Pizzuto entrambi nella seconda frazione di gioco ora il calcio d'eccellenza Ripali Mosani Alto Catertano 1-0 Esernia San Pietro in Valle è stata sospesa per un infortunio al giudice di gara CNC Sporting Mattiese 3-0 Gioiese Vasto Girardi 0-3 Boiano Limpiagnonese 3-0 Castel di Sangro Guglionesi 0-3 Montenero Venafro 1-2 Bois Vairano Sesto Campano 2-2 In testa la classifica il Guglionesi con il Vasto Girardi a 9 punti a 7 punti il Venafro 6 per Matese Alto Casertano e Castel di Sangro 4 punti per il CNC Sporting a 3 punti San Pietro in Valle Montenero Gioiese Boiano e Ripali Mosani 2 punti per la Bois Vairano 1 punto Limpiagnonese Sesto Campano chiude la classifica 0 punti la Isernia Il Venafro è riuscito a passare sul difficile campo di Montenero grazie ad una doppietta di Napoletano E ancora terra di conquista il Vincenzo De Santis il Venafro in rimonta riesce a superare un buon Montenero per 2-1 parte bene proprio la formazione Pentra al quinto napoletano dal limite per Eluasini che si gira all'indietro con un colpo di testa che di Renzo va a deviare da campione in calcio d'angolo un minuto più tardi la risposta è di Pezzotta con il tiro del capitano dai 25 metri parato a terra dal portiere Fiacco al diciannovesimo il cross di La Rivera Pizzo non trova il pallone arriva Anas che però calcia incredibilmente alto al 27esimo c'è il tiro di Pezzotta bloccato da Cavallini con un braccio il direttore di gara Antonio Elia di Ostia Lido lì a due passi concede il calcio di rigore dal dischetto va l'attaccante siciliano Pizzo che riesce a realizzare il gol del vantaggio tre giri di lancette però il Venafro rimette tutto a posto Napolitano su rimessa laterale va a prendersi il pallone entra in area di rigore Di Benedetto lo tocca da dietro anche qui il direttore di gara è vicinissimo all'azione fischia il calcio di rigore che lo stesso Napolitano va a realizzare per il gol del Parigi nel finale del primo tempo ancora lo scatenato attaccante Campano su punizione la risposta di Di Renzo però è precisa il portiere risponde presente con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa al terzo rinvio ma al destro da parte di Fiacco ma prima la Rivera e poi Anas che conclude sul fondo non riescono a trovare il gol con la posta sguarnita al quinto c'è il cross di Derrico e il Wasini assiste Viscovic il piazzato dell'argentino trova però sulla traiettoria di Rienzo che a terra blocca il pallone tre giri di lancette da Napolitano a Viscovic conclusione dal limite in diagonale sul fondo tredicesimo il cross di Derrico Napolitano ci prova di testa però non inquadra lo specchio della porta il gol è nell'aria per il Venafro arriva al ventunesimo il vivace nuovo entrato Solli con il pallone a tagliare un cross a tagliare l'area di rigore Napolitano si cordila e scarica sotto l'incrocio dei pali il gol del sorpasso il gol che poi risulterà vincente per il Venafro che soffre da lì alla fine ventiseiesimo Montenero sciupa il pari dopo un gran tiro di Di Pietro la ribattuta di Fiacco prima Pezzotta e poi Anas non riescono a scaricare in fondo al sacco il gol del pareggio anche al trentunesimo il buon cross da parte del San Salvese Di Pietro con la testa di Pizzo che però gira non inquadrando lo specchio della porta finisce con la vittoria del Venafro che spugna il Vincenzo De Santis di Montenero per 2 a 1 Tris del Boiano al Colalillo ai danni dell'Olimpia Agnonese il Boiano dopo due sconfitte si sblocca davanti al pubblico amico del Colalillo conquistando il primo successo in campionato rifilando un secco 3 a 0 all'Olimpia Agnonese prima del fischio di Niso l'omaggio silenzioso a Totoschillaci l'eroe delle notti magiche d'Italia 90 che ci ha lasciato pochi giorni fa a soli 59 anni poi la gara tattica e di studio con le squadre raccolte che badono più che altro a non scoprirsi all'undicesimo i Granata vanno al tiro dalla distanza con Pavone pallone alto un minuto dopo siamo già sull'altro fronte Perrilla indovina l'imbucata per Dinucci il quale entra in area ma calcia di poco alto sopra la traversa al diciassettesimo Boiano ancora pericoloso con tanti uomini in area di rigore sbuca la testa di Perrilla ma la soluzione è troppo centrale al quarantaduesimo Perrilla per il Boiano attacca bene la profondità ma conclude a lato al quarantaduesimo però è lui a trovare la verticale illuminante per Dinucci che si inserisce nello spazio e batte Pazzuola in uscita per l'1-0 Matesino che fa esplodere il Colalillo nella ripresa la agnonese potrebbe subito riprenderla con Memoli che calcia di prima intenzione trovando però i guantoni di Borreca al tredicesimo il Boiano ad un passo dal 2-0 con Sulemana che di testa prende il tempo a tutti ma la difesa Granata salva in extremis al quindicesimo il raddoppio è servito ancora sull'asse Perrella Dinucci Pazzuola chiude come può ma l'attaccante rimette al centro e Maurele il più lesta di insaccare anticipando anche Perrella al 25esimo l'angolo tagliato di Calabrese sul primo palo trova la testa vincente di Dinucci che fa 3-0 e doppietta personale mettendo in ghiaccio la partita nel finale c'è il tempo per l'orgoglio Granata con questo tiro di Memoli neutralizzato da Borreca che sigilla il successo Matesino regalando la prima gioia in campionato ai propri tifusi al cospetto di una agnonese volenterosa ma poco pungente Atletica leggera la Puglia con ben 201 punti ha messo la firma sulla 47esima edizione del Memorial Musacchio manifestazione riservata alla categoria Cadetti sulla pista del campo Nicola Palladino si sono sfidate le rappresentative regionali di Abruzzo Basilicata Calabria Campania Marche Puglia e Molise la manifestazione ha rappresentato un banco di prova importante in vista dei campionati italiani adesso il calcio di promozione Baranello Busso 2 a 1 Juveness Rufra e 2 a 1 Torre Maggiore Forulum 2 a 3 Calena Morcone 0 a 1 Roccaravindola Alife 2 a 5 Termoli 2016 Guardia Alfiera 1 a 4 Locomotive Riccia Trivento 1 a 0 Spinete Fortore 3 a 4 a 9 a 9 punti Forulum e Baranello 6 punti per Trivento e Guardia Alfiere Torre Maggiore 4 punti per Alife Fortore Juveness e Riccia 3 punti Spinete Busso Morcone a 2 punti Rufra e con La Calena ad 1 punto Roccaravidola Termoli 2016 Partita ricca di gol quella tra lo Spinete e il Fortore padrone di casa battuti 4 a 3 Lo Spinete da subito non lascia respirare l'avversario ma poi cede e la sconfitta ha il sapore amaro della beffa al quarto Bautto non inquadra lo specchio e la palla termina di poco fuori al sesto punizione battuta da Ianni Ruberto si inserisce Monaco ma para Marucci il gol è nell'aria ed arriva al dodicesimo ad innescare l'azione Staffieri il suo tiro supera la metà campo e finisce tra Diallo e Touré quest'ultimo segna l'uno a zero al ventiduesimo punizione in favore del Fortore la finta di Scendra la battuta di Giannini che al tiro in porta preferisce il passaggio facendo così morire la possibilità gol minuto 26 Fiorilli si lancia a rete in contrastato esce Pinelli che blocca il numero dieci ma è pronto Sadio che a porta vuota pareggia il risultato e riapre la partita al trentunesimo fallo in aria di Salvatore su Fiorilli il direttore di gara Michelangelo Rosa assegna il penalty lo stesso numero dieci dal dischetto non dà scampo a Pinelli 1 a 2 corre il trentanovesimo Giannini dalla bandierina Pinelli esce con i pugni al quarantesimo Evangelista pareggiare i conti Turetti che ne palla e come un falco si langia verso la porta avversaria ma sa di non resistere e allunga così per il numero 9 che va in rete il primo tempo si chiude dunque sul 2 a 2 si rientra dall'intervallo il fortore ci prova con Sadio il suo tiro è alto sulla traversa è al quinto che il duo Diallo Touré riporta i matesini in vantaggio tocco morbido di Diallo per Touré che sottorete insacca il 3 a 2 al dodicesimo ancora l'oro Diallo mette in moto un velocissimo Touré Marucci abbandona i pali ma non riesce a bloccarlo l'occasione è ghiotta ma nel frattempo la difesa della porta ci sono croce e Scendra il tiro di Touré non passa minuto 25 altro fallo in area di Di Salvatore questa volta su Scendra sul dischetto mucciacito che non sbaglia di nuovo situazione di parità corre il trentesimo confusione in area casalinga Cece filtra per Scendra e chiude la partita sul 3 a 4 siamo ai minuti di recupero Scendra si fa espellere per doppio giallo e Di Palma brucia l'occasione del pareggio in questo modo al tripice fischio lo spinete che ha provato fin da subito a padroneggiare sul proprio terreno di gioco esce sconfitto dal furtore la NAI ha reso noto il primo nome della starting list della gara all'americana della Corrisenne in programma domenica 6 ottobre la società del presidente Caputo è riuscita ad ottenere la partecipazione dell'olimpionico Pietro Arese ottavo nella finale dei 1500 alle recenti olimpiadi di Parigi terzo agli europei di Roma nello scorso giugno nonché primatista italiano sulla distanza per il 25enne piemontese si tratta della seconda partecipazione alla Corrisernia Futsal regionale la nuova stagione è ripartita con il primo turno di Coppa Italia nel girone D il Ripa Limosani si è imposto sulla sciaminante Mister Martimiliano Marcella allora ci troviamo purtroppo a commentare questa sconfitta la prima stagionale che cosa è mancato alla squadra secondo lei? Sì diciamo che soprattutto il secondo tempo è mancata la lucidità che ci può stare in sua stagione onore alla Ripa che ha disputato una gran bella partita diciamo che sostanzialmente non ha prevalso l'una sull'altra però poi la concretezza sottoporta ha fatto la differenza Quali sono stati gli errori più evidenti dei suoi ragazzi? Allora sì diciamo che proprio l'agonismo l'agonismo sui contrasti ci ha penalizzato tantissimo loro su quei palloni arrivavano bene e quindi poi riuscivano a ripartire in sua priorità Comendiamo anche il gol dell'1-0 avete chiuso il primo tempo proprio in vantaggio di 1-0 allora Comendiamo anche questo gol Sì è stata un'azione ben congeniata preparata e di questo sono contento però ovviamente magra consolazione Ecco allora sabato ci sarà la prossima gara poi insomma testa al campionato che credo che sia il vostro obiettivo principale insomma quello di salvarvi di disputare un buon campionato No nel senso non ci possiamo nascondere per la squadra che è stata allestita dobbiamo puntare a tutte le competizioni quindi Coppa Italia e il campionato quando arriverà il campionato è in programma domenica prossima il sesto moto incontro Paese che vai Molise che trovi organizzato dalla Lady Biker Molise and Friends durante la giornata le bikers faranno tappa alle ore 12 a Torella del Sannio con visita al centro storico del paese la quota di partecipazione è di 15 euro ed è possibile prenotarsi entre non oltre la giornata di domani ora le grafiche di prima categoria prima giornata nel girone A Vinchiaturo Sant'Angelo Limosano 1 a 0 Campo di Pietra La Fidelis 1 a 2 SS Campobasso Monteroduni 0 a 1 San Giovanni Ingaldo Domenico De Sisto 0 a 1 Mignano Volturni a 2 a 0 Montenero Fornelli 2 a 3 Olimpic Isernia Mirabello 2 a 1 Pietramelara Pozzili 2 a 2 3 punti Mignano Fornelli Ala Fidelis Olimpic Isernia Domenico De Sisto Monteroduni e Vinchiaturo ad un punto Pietramelara e Pozzilli a 0 punti il Montenero Campo di Pietra Mirabello San Giovanni Ingaldo l'SS Campobasso San D'Angelo Limosano e Volturnia prima giornata nel girone B San Giorgio Dax Toro 0 a 2 Angiolina Colletorto Gildone 1 a 5 Aurora Aururi Castelmauro 4 a 3 Bicari Frentagna 0 a 1 Casali Dauni Civitate 1 a 2 Maronera Protermoli 2 a 3 Roccavivara Molise United 0 a 2 Roseto Pietramonte Corvino 1 a 3 3 punti per Gildone Pietramonte Corvino Molise United Audax Toro Aurora Aururi Protermoli Civitate e Frentania 0 punti Castelmauro Maronea Casali Dauni Bicari Roseto Roccavivara San Giorgio Angiolina Colletorto Vi ricordo l'appuntamento con Molise a calci questa sera alle 21.30 insieme a Gianni Bruno Sara Rogoli avremo ospiti commenti opinioni e naturalmente la nostra Moviola Molise a calci alle 21.30 sempre e solo su Tele Molise è tutto buon pomeriggio a Grazie a tutti.